Pinetto chiamato al riscatto dopo la pessima prova sul campo della Cenerentola Legnago. Cudini cambia sistema di gioco, si affida al 4-3-3 a centrocampo Pellegrino. Con Amadio e Schirone davanti tornano titolari del Sole Fabrizi nel tridente completato da Bruzzaniti. Gubbio privo di Dursi e di Massimo 3-5-2 in attacco Giovannini al ridosso di Tommasini che all'alba del match scarica in area per il suo compagno di reparto destro Tonti reattivo. Capovolgimento e chance importante per il Pineto non finalizzata da Bruzzaniti che ignora Fabrizi. Subito dopo opportunità gigantesca per Fabrizi che tutto solo cicca il pallone a due passi da Venturi. Il Pineto spinge al quinto, altra occasione da Bruzzaniti a Del Sole che controlla e arma il mancino frustrato dall'estremo umbro. Ma lo stesso Venturi, nulla può al ventesimo su questa conclusione da fuori del solito Bruzzaniti che scambia con Fabrizi e calcia di interno a giro. Destro chirurgico, quarto gol in campionato per il 24enne attaccante arrivato in estate dal Crotone. Finale di frazione, ribaltone Gubbio, quarantunesimo, punizione di David, sponda di Rocchi e girata di Tozzuolo che batte Tonti. Uno a uno il centrale ex Montevarchi sfrutta nel migliore dei modi l'assist del compagno di reparto. In pieno recupero, Corsinelli dentro per Tommasini, trattenuta evidente di Borsoi. Calcio di rigore, nessun dubbio per Cappai della sezione di Cagliari sul dischetto Glaciale Tommasini. Totti spiazzato, 2-1 Gubbio per l'ex Pescara, seconda rete in campionato. Ripresa, Pineto non pervenuto, l'undici di Cudini fa una fatica in mane a costruire, zero pericoli per Venturi. Da segnalare solo gli avvicendamenti nel Gubbio. Zallu per David, Corsinelli passa a sinistra e Rovaglia alla posto di Giovannini. Tra i padroni di casa, prima Ienco per Borsoia, 20 dal termine, fuori Fabrizi e Pellegrino dentro Gambale e Shakir. 4-2-4 nel finale, in contropiede, Tommasini spaventa il Pineto che solo a tre dal termine si riaffaccia nell'area Eugubina con un colpo di testa di Gambale di poco al lato. In pieno recupero però Gubbio vicino al Tris, tiro di Faggi neutralizzato da Tonti, sempre presente per il Pineto e Crisi. Due punti nelle ultime cinque e ben nove gol al passivo.